Nemo, profeta in patria, l'antico adagio purtroppo è stato fedele a se stesso anche in occasione dei campionati italiani di briscola svoltisi domenica scorsa a Gramolazzo. Il mini hotel è stata la location ideale di una gara organizzata in modo impeccabile dalla società alta lunigiana. 32 le coppie in gara, di cui 11 provenienti da lunigiana e dalla zona del comune di Minucciano, che si erano qualificate dopo 4 prove di selezione. Al di là del risultato, la soddisfazione e l'orgoglio di aver ospitato un evento del genere. Per superare il turno era necessario vincere la partita. Se nella tradizione vince chi arriva prima a 4 punti, nel campionato si doveva raggiungere il quinto punto. Poi alcune piccole differenze che possono interessare gli appassionati, la distribuzione delle carte che deve essere rigorosamente fatta con una carta alla volta a girare. Poi, fin dalla prima mano, i concorrenti possono parlare liberamente. Arrivati all'ultima non possono scambiarsi le carte e nemmeno controllare le carte del proprio mazzo. In gara per il 62esimo titolo nazionale, giocatori arrivati da... Il nord Italia, perché abbiamo gente di Milano, Busto Arsizio, Varese, Brescia, Bergamo e poi noi toscani, abbiamo anche degli associati dell'Emilia Romagna, solo che non ce l'hanno fatta ad accedere alla finale. Comunque, soprattutto nord Italia, ecco, al sud non esiste, si vede la cultura del campionato. Come dicevamo, non è andata bene ai giocatori locali, che pure ci tenevano un mondo a ben figurare. Da notare il quarto posto di Boggi Treggiai, gli altri tutti eliminati nei turni preliminari. Per la cronaca, i nuovi campioni italiani di Briscola sono Tremolada Grassini, del gruppo Bustese, da Busto Arsizio, Varese. Un plauso sul piano organizzativo va anche ad Alberto Casotti, giocatore di livello, che ha voluto portare l'evento a casa. Purtroppo le carte per lui non hanno girato nel modo giusto. Tanti premi consegnati a partecipanti, dai prodotti tipici locali fino alla bellissima statua in stelle di Minucciano, scolpita naturalmente nel bellissimo marmo di questo angolo magnifico dell'Alta Garfagnana.